Sono state tre giornate molto intense, sono state importantissime sia per gli sfidanti che per noi che per l'organizzazione perché è stata la prima volta che queste barche si incontravano in mare, essendo saltate le altre World Series. Siamo stati molto fortunati perché abbiamo trovato praticamente tutte le condizioni di vento. Il comitato di regate è stato bravo a mettere sempre le regate nel campo C, che è quello più vicino alla città ma anche uno dei più difficili. Ovviamente abbiamo avuto problemi sotto diversi aspetti, alcuni team hanno avuto problemi per i sistemi One Design, alcuni team, noi ieri abbiamo avuto problemi a ricevere le informazioni di regata, per oggi è andato un po' meglio, gli inglesi hanno avuto questo stesso problema. Oggi con poco vento siamo andati bene, abbiamo avuto, come aspettavamo, delle performance abbastanza interessanti, però è solo l'inizio e da qui in avanti ci sarà da crescere.